Oh Che lobby Che lobby Voi che starete guardando questo video da Youtube? Andiamo a subire su Instagram che siamo quasi a 14.000 follower ragazzi Dai che sto mese 2 giveaway faccio Eds Bel passaggio del mate Dai 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 Si fa eds si fa eds Si fa eds cazzo Ora Brizzi Koke-kun che sta C'è ranka in 4 men's una bestia Vado io Posso fare tranquillamente un anticipo Mi mette 2000mmr porco giuda Tanta roba se si fa anticipare Ok Anticipo lo sapevo Questa è la ceisata del king La ceisata del king vai a casuccia Poi ho fatto un anticipo della madonna perchè Koke-kun non se lo aspettava Non posso fare un bump Faccio una finta di andare a prendere il boost e in realtà seguo Mamma che Vedete che finta Queste sono le finte di corpo di Messi Ci penso io Tutto lateralmente Il mio mate anticipa Spero mi lascia il boost Vado dietro Ah Gli altri sono Koke-kun e Torres Delle bestie proprio Specialmente il mio mate ragazzi è forte 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 Allora 68 di boost Posso fare un resetino che dite Fake sotto Ah ce l'avevo Dai cazzo Non posso grattarmi Mannaggia la miseria Mannaggia devo grattarmi Brisi lo anticipo Sicuro e questo è poco Ed è heads Provo a buttarla in mezzo ma non ho boost Ah L'ho provato con un pre flip Vai Torres Bravissimo Buttame la mid se puoi Va bene Torres Carri Ragazzi Per Torres Non ci sono problemi Per Torres Non ci sono problemi Easy Seguo seguo Vai Bravissimo Eeeh Insomma Non ho boost Torres Easy carriata Veramente cazzo Bravo Torres Stai in retromarcia Cazzo Ce l'ho easy Posso fare un pinch Eeeh Non ho boost Non ho boost Non ho boost È goal? Mamma mia ragazzi che precisione questo quell'ha dietro oggi Vampiamo Ha fatto un bel 50 Tocca a Koke un in teoria Questa la posso anticipare io Perché la metto in mezzo per me stesso No è vero per Torres Bravo Torres Bravo cazzo Di là era l'ECS Non ci stanno capendo nulla Quid Mamma mia ragazzi 1 minuto e 40 di partita 1 minuto e 40 di partita 1 minuto e 40 di partita Con triplere l'ECS Speffi già È troppo easy Troppo troppo facile Troppo troppo facile Però mi hanno rovinato il video su YouTube Managgia La puttana Managgia Potevano quittare 2 minuti dopo Kivestramurt Eeeh Dammi solo la sera Uuuu Uuuu Faccio live sia la sera E a volte anche il pomeriggio Però tutte le sere Deve dare 21 e 30 Aspetta 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 Ho visto un grande Ritter LCS L'alfa boost Non ce l'ha Chi cazzo può essere? Ecco Sicuramente uno ha Bravo mi sembra Io sto iniziando ad avere paura sinceramente Vediamo un po' Non l'ha preso mai sto reset Uuuu Fake Ok questo mi viene a pushare subito Nooo e dai Lasciami il boost però Perfetto 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 Ce l'ho Ce l'ho tranquillo il tempo che questo viene a pusha Questo ora pusha Ok buono Vado a vedere il profilo vedo chi è Cazzo è questo ragazzi Hibs Hibs È il ritorno di Hibs Aspetta non ho visto bene Mi sa che è Hibs ragazzi Il ritorno dopo tanti anni Dopo tantissimo tempo di Hibs Colui che Che si prese quelle tre pause senza neanche accorgersene Che prese quella scosuta incredibile Non ci credo Hibs è tornato Vabbè mo Mamma mia ragazzi Spaccato un player RLCS Un player RLCS spaccato Devo dire che No ragazzi il pronostico vale onestamente Cioè Era Hibs Vabbè ragazzi Mandatemi il minuto in privato Comunque Abbiamo spaccato Abbiamo fatto quittare un player RLCS In meno di un minuto Ok siamo in squadra con Zinani Contro Cronomi e Rias Questa è una bella partita Perché neanche per idea Porca miseria Che è successo Ce l'ho Non ho boost Ho perfettamente zero Provo a fare un flick Peccato Mi mette bravo Ragazzi le radici si riscattano ai punti canale purtroppo Ce l'ho Ho completamente zero di boost Completamente zero di boost Infatti questo l'ho anticipato buono Meno male Ho zero un'altra volta Tutta la partita full zero Non posso prendere questo boost Ma mi giro semplicemente verso il centro Prendo questo Il mio mate ha preso quello Va benissimo Prodo a mettere il più mid possibile Faccio una finta sotto E tiro in porta Peccato Guarda dietro Ma che gli si contenuto No 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 Sto tragardando troppo In questo periodo Stasera vuoi tragardare Devo iniziare a tragardare di più Vai Z9 Mettile in mezzo Fake completo Ma vaffanculo Faccio veramente cacare Z9 No bravissimo Radice di 485 22,0 qualcosa Edz L'amata esper non c'è più Andata puttane Andata con calma Con calma Tocca il mio mate Bravo Oddio Un pre-jump un po' azzardato Però ha funzionato Quindi GG Posso tranquillamente avere un La palla in mezzo Pampiamo il portiere Il boost io l'ho fotto Posso tranquillamente difendere questa palla In tirare Mi voglio non tirare le mine Ovviamente fatta apposta Mica volevo 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 semplicemente schivarla No no volevo prenderla Uy Johnny Minch era quanto tempo Veramente bentornato Bello Buona con Prime Se vuoi abbonarti con Prime Basta che scrivi in chat Punto esclamativo Prime E ti esci il link per abbonarti Edz Radice di 691 Fa 26,2 Massimo 3 Yes Vediamo se ce l'ho ancora Sto giocando bene questa partita Grazie Ce l'ho io Ce l'ho Ah neanche ho sbagliato qua Qua My bad se avessimo preso call Non ho boost Kick off Posso tranquillamente aspettarla Non posso fare un caso Uh Impazzito 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 Aspetto il mio mate Lo so perché stavo Alla back Sorry Pensavo se sarà la backboard E quindi sono andato sotto Sono boost Rip My bad comunque Alice 565 23,8 Più o meno Massimo 9 Non ho boost Tocca il mio mate Vai vai tutta tua Che sta ce l'hai proprio con calma pure Possiamo stare tranquilli su sta palla Si spazza easy Che l'ho passata L'aspetto Tanto lì si prende il boost Noo che sfiga Qua prova ad anticipare Tanto lì passa sotto Non può fare un cazzo Yes Vado a prendere il boost Tanto sta il mio mate Lì qua a difendere I boostini li lascio Tanto c'ho al centro Non c'è bisogno Provo a fare un flicchetto Nemmeno? No Nada Ok Il mio mate Se anticipa è meglio Gli lascio il boost Si lo lascio va Tanto ho 0 ora Non ho boost Mamma che bel tocco Peccato La moto gp si ho visto Più in qua ho detto marquez Sono contento Mi piace marquez sincero Bravo 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 Aspetto Che questo me la passi Va benissimo Ok Potrebbe andare il mio mate Mi sa che mi sa No bravo bravo Al mio mate è bravo sincero Mi piace come gioca Un po' particolare però Gioca bene Falzo Che fai la Me la fachi? Io te la faco E ti salto pure Non è bene Non mi ho saltato neanche mia sorella Vaffanculo Vabbè dai ho fatto cose buone Va Scherzavo il cazzo Vai z9 Alza sta palla Questo mi bampa Bravo z9 Prendiamo il boost Da 12 12 12 12 Bottiamo il 100 a cronomia Bastardo Dove forse andarlo a bampare Buono Sbagliato Sbagliato Completamente sbagliato Questo al massimo Può appoggiarlo Va benissimo allora La butto in mezzo Ce l'ho Peccato Buonasera conquista Bump E open Bravo mate Fa me la sono gestita molto bene con il bump Sono stato intelligente A non andare per il pallone Ma semplicemente andare addosso a lui Senza problemi Ehm Faccio Vabbè stico un po' dai Non troppo vicino perchè non mi fido Ho fatto bene a non fidarmi Questa è una palla difficile E invece ho fatto Ho fatto male ad riandarci Bellissima parata da parte sua Questo sarà molto determinante Con quel preflip Finiamoci il boost Provo a fare io un'azione va Fake sotto E poi tiro sopra Che sfiga Vabbè dai Era uscita Era uscita una bella giocata Peccato per la traversa Ho gestito bene tutto qui Peccato 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 Bravo mate Questa sarà una partita molto bella Onesto Una partita molto 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 bella Division 4 Adesso riprendiamo l'SSL Easy Grazie Grazie Grazie